Musica Aveva allestito in casa una vera e propria serra di marijuana con ben 40 piante alte oltre un metro. Per questo è finito in manette un cinquantenne aretino con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era già gravato da precedenti specifici. Le manette sono scattate ieri quando i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Arezzo sono intervenuti in seguito ad uno specifico servizio di osservazione. All'interno dell'abitazione del cinquantenne nei pressi di Tregozzano i militari hanno trovato e sequestrato due chili e mezzo di marijuana, 40 piante alte oltre un metro ed infine 100 grammi di semi di canapa indiana. L'uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria.